Buongiorno Giorgia Meloni, leader dei fratelli d'Italia. Buongiorno Meloni. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, allora, prima di venire un attimo alla politica abbiamo parlato adesso dell'eventuale tassa sul contante. Lei, ho visto che ci seguiva, volevo capire la sua opinione. Guardi, io sono contraria in generale intanto a nuove tasse. L'Italia non ha bisogno di nuove tasse, l'Italia ha bisogno di togliere le tasse. E quindi penso che quando si parla di mettere nuove tasse non sia mai una buona notizia. Dopodiché il tema del contante è un enorme tema. Penso che l'Italia dovrebbe muoversi armonizzando la legislazione europea, perché noi per esempio parlavate anche del tetto all'uso del contante che c'è in Italia. Ricordiamo che in Italia tu hai il tetto all'uso del contante, ma in Austria no, in Germania no. E allora magari c'è gente che ha contanti da spendere, che li potrebbe spendere in Italia e che invece preferisce andarli a spendere in Austria o in Germania. Non ha molto senso. Terzo elemento, che mi si dica che si vuole combattere l'evasione fiscale con la tassa sul contante. A me non torna, perché in Italia il grosso dell'evasione fiscale è data dalla grande evasione. Allora perché questa iniziativa a me non suona? Perché dobbiamo ricordarci che ci sono le commissioni bancarie. Le commissioni bancarie su ciascuna transazione che io faccio comportano alcune cose, cioè che se io faccio una cosa per incentivare il pagamento, diciamo così, elettronico, aiuto le banche a guadagnarci di più. E le banche sono spesso state accusate in Italia di evasione fiscale, quindi qualcosa non mi torna. E se ci sono le commissioni bancarie, la tassa sul contante diventa una tassa anche sui commercianti. Perché quando tu vai a pagare, paghi col banco, ma il commerciante alla banca gli deve pagare la commissione. Per cui diventa una tassa sui piccoli in favore dei grandi, cosa che abbiamo già visto dai governi di sinistra. Perché ste banche pare che se non le aiutiamo noi non siamo felici. Dopodiché se volessimo fare un ragionamento... Ma se uno togliesse quelle commissioni sarebbe diverso, magari si potrebbe ragionare. Assolutamente sì. Se si tolgono le commissioni bancarie, cioè viene fatto divieto di applicare una commissione su questi pagamenti, per me si può parlare di tutto. Anche perché, guardi, mi rendo conto che la cosa rischia di diventare un po' complessa, però è un temone. Cioè, mentre se io ho 100 euro contanti e pago a lei con 100 euro e lei usa quei 100 euro per pagare un'altra cosa a qualcun altro e via discorrendo, quei 100 euro rimangono sempre 100 euro di valore, ok? Ma se io pago quei 100 euro con la commissione bancaria, nel momento in cui spendo quei 100 euro, quei 100 euro già diventano 98 perché c'è la commissione bancaria. Quando quello a cui arrivano li rispende diventano 96 e poi 94 e poi 92 e questi soldi perdono di valore, a un certo punto spariscono, inghiottiti dalle banche e incitono sull'economia reale. Penso che sia un tema sul quale vale la pena di ragionare. No, no, io sono, guardi, favorevole all'incentivo dell'uso delle carte di credito, ma sono d'accordo con lei. Se si spinge verso la lotta al contante, siccome le banche risparmiano perché pagano per la gestione del contante, ci facciano il favore di toglierci le commissioni. Esattamente. D'accordissimo. Senta, veniamo a quello che sta succedendo nella nostra politica. Le faccio vedere il nostro titolo. dopo la piazza che succede perché c'è stata la manifestazione, servizio e poi mi dice qual è il prossimo passo di Fratelli d'Italia, del centrodestra, della destra sovranista. Non lo so, me lo dice lei. Tra poco. Avremmo tranquillamente potuto riempire piazza del popolo, non piazza Montecitorio. E abbiamo riempito almeno altre tre piazze oltre questa. Il successo della manifestazione tricolore contro il governo Conte II rilancia Giorgia Meloni come leader del centrodestra e ribadisce una verginità d'opposizione di Fratelli d'Italia, che ha detto no a tutti i governi che si sono succeduti dal 2013 in poi. Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte I. Fuori 30.000 scesi in piazza. Dentro la camera dava semaforo verde all'esecutivo targato Movimento 5 Stelle Partito Democratico. Siete soltanto un altro, forse il peggiore, governo di politicanti terrorizzati dal giudizio popolare, asserragliati dentro al palazzo. Ora viene il difficile. Fratelli d'Italia all'ennesima traversata nel deserto dell'opposizione, pieno di insidie ma anche di opportunità. Su cosa possa rappresentare oggi una destra italiana davanti a sfide epocali? Le grandi migrazioni, il rapporto con l'Unione Europea, la stagnazione economica dell'Italia, la questione fiscale. E in cima la più grande sfida del sovranismo italiano, conquistare quote di un elettorato giallorosso disorientato e deluso dal neonato governo. La traversata è appena iniziata. Siete venuti a combattere da uomini liberi? E uomini liberi siete? Il paragone con Braveheart mi sembra azzeccato, devo dire. No, no, ma poi guardi, io quel monologo lo potrei fare a memoria. E posso dire, lui mi fa meno paura, o meno paura, no, sto scherzando. No, no, dicevo che il monologo di Mel Gibson su Braveheart, quello che avete messo alla fine, lo potrei citare a memoria, per cui è uno dei pezzi che io amo di più al mondo della cinematografia. L'ha azzeccata. No, senta, il discorso è questo. Io ho visto adesso un sondaggio molto lusinghiero nei suoi confronti, perché in questa crisi lei è quella che ha acquisito più favore, diciamo fiducia da parte degli italiani, almeno come leader e come sondaggio. Le chiedo però, a questo punto sta sempre all'opposizione? Lei sta sempre all'opposizione? Dice, non è colpa mia, però bisogna, è il suo momento. Ma guardi, io sto all'opposizione perché in Italia ormai c'è una democrazia malata. In Italia ormai si pensa che tutto debba passare sulla pelle dei cittadini, cioè o i cittadini votano come vogliono i grandi burattinai, oppure non votano. O fanno quello che dicono i grandi burattinai, oppure stanno zitti. Questo è il problema della democrazia italiana. E guardi che, e io l'ho spiegato in aula nell'intervento che voi facevate vedere, guardi che non è vero che la democrazia parlamentare funziona così. La democrazia parlamentare non vuol dire che io frego il voto degli italiani dicendogli l'esatto contrario di quello che poi vado a fare con quel voto e mi chiudo nel palazzo cinque anni a fare quello che voglio e soprattutto l'esatto contrario di quello che gli italiani mi hanno chiesto. Cioè noi siamo di fronte a un governo che vede insieme due partiti che hanno preso, i voti che hanno preso, dichiarando che si sarebbero combattuti. Però quello l'aveva fatto pure la Lega. La gente ha votato un Movimento 5 Stelle per mandare a casa il PD. Ha votato il PD come altre persone 5 Stelle. Però pure la Lega aveva fatto tutta la campagna elettorale con voi, non mi sembra... Ma infatti io non sono andata neanche col governo giallo-verde. Fratelli d'Italia è l'unico partito dell'arco costituzionale, voi lo dicevate nel servizio, lo ricordavate, grazie, è l'unico partito che non si è mai prestato a fare un governo con forze diverse da quelle con le quali si è rappresentata alle elezioni. Perché per me il mandato dei cittadini è sacro. Se io dico in campagna elettorale votami perché con quel voto farò A, B, C e D, poi non vado nel palazzo con quel voto a fare M, S, R, Z, cioè tutt'altro. Non lo posso fare perché è una cosa che non si fa. Anche se c'è da dire che Lega e 5 Stelle quando hanno fatto quel governo erano comunque due partiti che uscivano vincitori dall'elezione, mentre qui siamo proprio di fronte a gente sconfitta, strasconfitta, straperdente, che gli italiani non vogliono più vedere manco in cartolina, che siccome sanno che se si va a votare vanno a casa, allora si mettono d'accordo per non andare a votare. Senta però, guardi, le faccio vedere questo signore qua, no, Salvini. Che in qualche modo, molti dicono, è il suo alleato naturale, no? Ecco, io però non mi spiego. Magari è un retroscena sbagliato. Lei è andata alle consultazioni da Mattarella e ha detto, io credo che o si va a votare o si dà l'incarico al centrodestra, magari a un leghista, magari ha fatto pure il nome di Salvini. Salvini ci è andato e ha detto, io l'incarico lo darei a Di Maio. Cioè, anche questa alleanza mi sembra un po' complessa. Sì, però questo lei lo deve chiedere a Salvini, perché io ho sempre detto le stesse cose. Io ho preso i voti per stare nel centrodestra e ho detto, in realtà sono andato a dire, per me si deve votare. Poi certo, non capisco perché se si dà l'incarico non lo si dia a quelli che hanno vinto le elezioni nel 2018, ma questa è un'altra cosa. Io ho detto, andiamo a votare. Non ho condiviso, ma l'ho già dichiarato, la scelta di Salvini di tornare indietro rispetto all'apertura della crisi e proporre la premiership a Di Maio, di dire che Di Maio ha lavorato bene. Di Maio ha fatto il ministro dello sviluppo economico. Al Mise, al ministero dello sviluppo economico, ci sono aperti 280 crisi di tavoli aziendali, ne avesse risolto uno. Ne avesse risolto uno, ma quale ha lavorato bene? Di Maio per me non ha lavorato bene, infatti io il governo insieme a me non ci sono andata con Di Maio. Però che le devo dire, vecchi, sono contenta che oggi anche la Lega sia tornata all'opposizione della sinistra, perché i Cinque Stelle per me sono sempre stati di sinistra esattamente come il PD e lo dimostrano e sono contenta se la Lega anche se ne è resa conto e è tornata all'opposizione della sinistra, così come sono contenta se Forza Italia rimane all'opposizione della sinistra. Mi dica sinceramente, mi dica sinceramente, La Lega è andata nella piazza che aveva organizzato lei. È una Lega, è un Salvini meno forte di prima? Forse in questo senso anche più disposto a ricostruire quell'alleanza di cui sta parlando lei? Era diventato troppo popolare, troppo forte, ha un po'... Ma guardi, questo anche lei, diciamo, va chiesto o a Salvini o agli italiani. Quanto sia forte Salvini lo scopriremo quando si andrà a votare. Io quello che posso fare è lavorare per far crescere Fratelli d'Italia, perché credo che la posizione di Fratelli d'Italia, di assoluta e totale coerenza rispetto a questi scenari, di fermezza, abbia, diciamo, rappresentato un punto di riferimento importante per gli italiani. Ora, noi abbiamo una fase difficile di fronte, lo diceva, diciamo, il servizio al di là della traversata del deserto. Io sono, diciamo, meno pessimista sulla durata di questo governo. Penso che andranno a casa prima di quanto si possa immaginare. Ma bisogna costruire un'alternativa, bisogna raccontare agli italiani l'alternativa che, per esempio, Fratelli d'Italia vuole. Vede, dice, qual è la prossima mossa? Noi abbiamo fatto una manifestazione, io voglio ringraziare veramente le decine di migliaia di italiani che hanno partecipato di lunedì mattina. Di lunedì mattina hanno lasciato il lavoro, hanno chiuso i negozi per venire a dire questo governo è una truffa, non lo farete nel mio nome. Probabilmente non se lo aspettavano nel palazzo che così tanta gente fosse concentrata e consapevole dello schifo che stava accadendo. Però, chiaramente, noi continueremo a fare le manifestazioni di piazza, continueremo a fare l'opposizione in Parlamento, ma poi dobbiamo anche disegnare un'altra Italia. La prossima settimana, dal 20 al 22 settembre, all'isola Tiberina c'è Atreiu, che è la manifestazione annuale più importante di Fratelli d'Italia, ha un cartellone importantissimo in questa edizione, ma il titolo qual è? Sfida alle stelle, l'Italia che pensa in grande. Vede, io voglio tornare a parlare di miracolo italiano. Io voglio un'Italia orgogliosa, capace, che cresce, che crea lavoro, che non fa scappare i suoi figli. E noi di questo dobbiamo parlare, perché quella gente asserragliata lì nel palazzo, chiusa, solamente per mantenere la poltrona, risposte su questi problemi. Non riuscirà a darne... A proposito di quella gente, mi fate vedere quel post, sono rimasto colpito da un suo post, in cui metteva a raffronto, dice noi al servizio degli italiani, loro al servizio di Francia e Germania, si vede Conte con Macron e con la Merkel. Ora però le chiedo, ma se lei diventasse Premier, e non la va a stringere la mano alla Merkel o a Macron, cioè, che c'è di male? Ma guardi, una cosa è stringere la mano alla Merkel e a Macron, una cosa è farsi dare dalla Merkel e da Macron il ministro dell'economia, è una cosa diversa. Io credo che l'Italia debba avere buoni rapporti di alleanza, che debba stare in Europa, che debba costruire chiaramente, tessere la sua rete di amicizie, ma che lo debba fare a testa alta. Perché noi siamo l'Italia, non siamo una nazioncina, noi siamo la seconda potenza industriale europea, siamo uno dei paesi fondatori europea. Beh, ci hanno dato un commissario importante, gli affari economici. Beh, insomma, hanno fatto finta di darci un commissario importante, perché ci hanno dato gli affari economici e poi hanno detto, pensi che il commissario degli affari economici non è responsabile di convocare le riunioni sugli affari economici. È commissariato. Dica lei, mi dica lei. Hanno preso Gentiloni, ci hanno dato il commissario economico e dell'economia per fare cosa, per legarci ancora di più le mani rispetto a quello che potevamo fare per l'Italia e poi l'hanno commissariato con un altro che, diciamo, gli dice che cosa deve fare. Per cui non mi pare un grande inizio. Grazie a Giorgia Meloni. Grazie a tutti. In bocca al lupo per Atreio settimana prossima con la sua manifestazione annuale. Grazie per essere stata con noi a tra poco.